volete sapere che cosa sono questi dei pesi ma non dei semplicissimi pesi sono i pesi che vanno sulla waterwolf la mia nuova videocamera per fare i video subacquei quindi underwater underwater per la traina e per il verticale eccola qui presto vi farò vedere unboxing farò vedere come va settata e poi spero di farvi vedere il prima possibile un video in underwater quindi un utilizzo dal kayak per video ancora più immersivi la mia nuova videocamera waterwolf eccola qui se siete curiosi di vedere come si monta basterà che lo scrivete nei commenti ok